bentornati sul nostro canale l'angolo di windows.com possiamo continuare la serie di gare che abbiamo lasciato in sospeso nell'episodio precedente ricorderete che è durato più di un'ora non glielo fatta a continuare ho dovuto interrompere anche perché aveva un impegno e quindi continuiamo da dove abbiamo lasciato e riassumiamo abbiamo raggiunto già tutti e tre gli obiettivi di conseguenza partecipiamo alle gare che mancano alla fine di questa serie per divertirci e basta siamo a half way 1 prova speciale come si può notare sulla destra indica quanto tempo è passato dall'inizio del rally a 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 la macchina ha deciso di andare dritta stavo cercando di svoltare a destra probabilmente per l'ennesima volta il comando è stato preso al contrario quindi io andavo a destra e la macchina andava a sinistra è sembrato che andasse dritta la macchina è messa male ok 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 Grazie. Nonostante un qualche incidente di troppo. Parecchie novità, abbiamo sbloccato di tutto, intanto aggiorniamo gli sponsor e il guadagno adesso aumenterà, direi a questo punto di passare alla successiva serie di gare, direttamente in questo episodio. Allora, dovremmo usare, eccola qua, quella è la Coppa del Mediterraneo. Dovremmo vincere da 1 a 4 prove, per avere tutti gli obiettivi. Possiamo usare, la difficoltà è media, vetture idonee le WD, vediamo come va. Per ora mi sta tirando la Clio. Sì, vado con la Clio. Non so quante prove ci saranno. Il primo è il Priorat, siamo in Portogallo. Sì, vado con la Clio. Non so chiederti da 1 a 4. E non so quinte prove ci saranno. Sì, vado con la Clio. Un primo è la mia. Sì, vado con la Clio. in prima posizione più che altro ho perso controllo della macchina per l'ennesima volta se n'è andata per conto suo anche questa volta la macchina per l'ennesima ottimo la prima prova è stata vinta adesso ne dobbiamo vincere un'altra per l'obiettivo numero 2 adesso c'è pericolo alberi adesso c'è pericolo adesso c'è pericolo adesso c'è pericolo e vai non sono riuscito a ralentare abbastanza da usare freno a mano peccato adesso c'è pericolo adesso c'è pericolo ottimo ottimo qualche errore verso la fine ma siamo riusciti a cavarcela adesso c'è pericolo aggiustiamo la macchina ancora adesso per l'obiettivo 1 dobbiamo vincere le prossime due tappe o prove o prove è il priorat adesso c'è pericolo 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 allora c'è pericolo un po' va beh poi 70 C'è mancato poco, ma sto imparando la posizione degli alberi. Ora devo imparare la posizione dei muri. Ora devo imparare la posizione dei muri. Sì, stai salutando, ma sei anche andato addosso. Vabbè. Quindi 3 su 4, ancora una prova e abbiamo raggiunto tutti gli obiettivi. Qui siamo in Arabia? Aman. 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 Grazie a tutti. Più che altro la macchina ha iniziato ad andare a destra invece che a sinistra, ancora una volta. Più che altro la macchina va per conto suo. Più che altro. Più che altro la macchina va per conto suo. Più che altro la macchina va per conto suo. Più che altro la macchina va per conto suo. Più che altro la macchina va per conto suo. Più che altro la macchina va per conto suo. Grazie a tutti. Grazie a tutti. L'ambientazione di Star Wars. Ho sbagliato, ho premuto una ua centata di troppo. Vabbè, macchina sistemata in sei minuti. Abbiamo raggiunto tutti gli obiettivi, ma c'è ancora qualche altra prova. Infatti se vengo di qua, noto che ce ne sono ancora. Quindi andiamo, una cosa veloce. Un po' troppi salti. Qua e là. Sembrava una partita a flipper. Una flipperata. Che altro non abbiamo frenato a sufficienza. Che avevo capito che c'era qualcosa lì. Che altro non abbiamo frenato a sufficienza. Spirato a sufficienza. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Non era il salto che mi aspettavo ma vabbè. Grazie a tutti. Grazie a tutti. E' andata così. Lo so. Grazie a tutti. Che distruzione. La macchina è stata un po' distrutta. E' stata un po' maltrattata in questa gara. La carrozzeria ne risentirà. E' andata così. 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 Volevo tagliare. E' andata così. 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 Grazie. Scusa, l'ho già tagliato. Grazie. Scusa, quella pietra sembrava la faccia di uno squalo. Lo volevo tagliare, ma c'era una pietra in mezzo. Eh, lo so. Scusa, l'ho già tagliato. Scusa, l'ho già tagliato. Ok. Jose Maltau si è ritirato. Siamo rimasti in 15. Quindi abbiamo raggiunto tutti gli obiettivi, ecco quanto abbiamo guadagnato. L'episodio può terminare qui. Ci rivedremo al prossimo episodio.